La campanella è suonata anche per gli istituti superiori a Gubbio. Dopo sei mesi dall'ultima lezione in presenza, i ragazzi rigorosamente muniti di mascherina sono tornati a varcare i cancelli di scuola e a riprendere le lezioni quasi come un tempo. Siamo andati a sentire le considerazioni dei ragazzi del polo liceale Mazzatinti e del Cassata Gattapone all'uscita di scuola. Come è andato questo rientro a scuola? Ma benissimo, sinceramente anche molto meglio riguardo a quello che mi aspettavo più che altro perché è stato organizzato tutto molto bene, anche come l'organizzazione delle classi, dei vari spostamenti, ricreazioni e tutto quanto. E poi bello soprattutto perché questo è l'ultimo anno per me e l'ultimo anno in cui posso stare decentemente con la mia classe e niente, quindi sono felice. È andata bene, è stato bello ritrovare tutti i compagni, ritrovare tutte le persone che non rivedevamo da qualche mese. È stata un po' difficile perché comunque sia seguire tutte le regole, tutte le norme non è così scontato, però ce la siamo cavata. E le ricreazioni, le varie soste si sono svolte all'aperto, finché il tempo lo consentirà sarà così. È abbastanza bene, non mi aspettavo grandi cose, però alla fine sono più o meno rispettate tutte le normative, è stato bello rivedere tutti i compagni e niente. In aula, in classe ci hanno dato la possibilità di toglierle le mascherine durante la lezione perché tanto comunque i banchi sono distanziati e almeno un metro e quaranta, ci ha detto il prof, quindi proprio mentre a ricreazione oppure per diversi spostamenti, anche per andare in bagno, eccetera, la mascherina va tenuta sempre. Rientro a scuola è stato strano rispetto a tutti gli altri anni, non me lo immaginavo così, diciamo che è stato diverso, però è andato bene, è andato tutto bene. Le preoccupazioni hanno lasciato spazio alla grande emozione nel rivedere compagni e professori, soprattutto per i ragazzi delle ultime classi, che si spera potranno chiudere l'anno così come lo hanno iniziato. Io faccio il quinto e sì, è stato bello rivedere tutti quanti, stare insieme proprio fisicamente invece che a distanti col computer o magari col cellulare. E sì, poi anche i prof ci hanno fatto un'accoglienza veramente in sacco bella, sì.